L'ho fatto per oltre 20 anni da giornalista, voglio farlo anche da sindaco, girare la città, conoscere le problematiche, toccarle, tastarle con mano, avere il contatto diretto con i cittadini, perché se non si gira, se si sta troppo seduti a Palazzo di Città come ha fatto Melucci, si perde completamente il contatto con la realtà e si vive in un altro mondo, nel mondo delle favole, delle chiacchiere. Ci troviamo qui a Lama, orientativamente alle spalle della Lidl, è una zona borderline tra Lama e Talsano, piazza Savonarola, un'area pubblica, vedete ci sono abitazioni e guardate lo scempio in cui si trova questa piazza che è completamente, sottolineo, completamente sterrata. Guardate qui è piovuto una decina, una quindicina di giorni fa circa e l'acqua piovana ovviamente, la fanghiglia, il fango è rimasto ovviamente inalterato, perché stiamo parlando di un'area che come detto è completamente sterrata, non ha mai conosciuto l'asfalto ed è ovvio che sembra di stare in aperta campagna. Eppure qui abitano famiglie, ci sono bambini, ci sono anziani che si affacciano e si ritrovano appunto in aperta campagna. Ripeto, vedete la terra, vedete il brecciolino, vedete anche proprio la incapacità amministrativa di controllare e di gestire, è stata tagliata un po' l'erba intorno, però un'altra parte, tutto il resto dell'erba, vedete lì, non è stata appunto tagliata, non è stata rimossa, perché ovviamente si fanno le cose alla Carlona. Per non parlare poi anche della situazione in cui, vedete, si trovano gli alberi. Gli alberi non vengono potati, non avviene un controllo degli stessi, alcuni alberi di alto fusto si stanno ripiegando su se stessi e potrebbero da un momento all'altro letteralmente crollare, ribaltarsi appunto e pensate a quell'albero lì, le tragedie che potrebbero accadere perché si sta incurvando sempre più fino appunto a un triste giorno, ribaltarsi. Poveretto o poveretti, coloro i quali si troveranno qui sotto. Vedete, l'amministrazione Melucci ha dimostrato di essere completamente assente. Cittadini che nel lontano 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, una petizione che è stata presentata all'epoca in lo tempore nel 2016, non ha avuto alcun esito. Petizione che sottolineava le problematiche che vi sto esponendo. Nessun intervento, menefreghismo assoluto, da Stefano a Melucci sono cambiati gli attori ma la musica, il film è sempre lo stesso. Un film chiamato Degrado e a questo film chiamato Degrado vogliamo mettere la parola di end, la fine. Girare, io amo girare, amo controllare il territorio, amo confrontarmi con i cittadini, ricevere consensi e dissensi. Così farò, se Dio lo vorrà, anche da sindaco. Penso che gli abitanti di questa zona, di piazzale Girolamo-Savonarola e dintorni meritano ben altro perché ricordiamo che queste abitazioni, pur non essendo state accatastate, però pagano i servizi, pagano e già perché l'amministrazione comunale conosce soltanto i doveri dei cittadini ma calpesta i diritti degli stessi. Meditate elettori, meditate.